Spaccio di droga, doppio arresto in Brianza. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della tenenza di Mariano Comense hanno fatto scattare le manette ai polsi di due persone, un 34enne di Mariano Comense e un 17enne di Cantù. A seguito di decine di segnalazioni dei cittadini su un'attività di spaccio nell'area della stazione ferroviaria di Mariano Comense, in pochi giorni i carabinieri hanno individuato i presunti spacciatori e il luogo dove i due tenevano le scorte di droga. Ieri pomeriggio quindi i militari hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione in via Sant'Agostino, sempre a Mariano Comense, dove abitavano temporaneamente i due, trovando oltre un etto di marijuana e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi, un bilancino e buste in cellofan. Il 17enne, su disposizione del Tribunale dei Minori di Milano, è stato portato al Beccaria. Il 34enne è stato processato stamane con rito direttissimo in Tribunale a Como, condannato a un anno e mezzo di reclusione e portato al carcere del Bassone.